ragazzi bentornati in questo vicino video bentornati posso dire che un po godo però adesso bisogna spero cioè non godo tanto perché ci possono spotere stasera si ragazzi una zero delle dell'ungheria contro l'inghilterra hanno dominato ma quanto cazzo è forte l'ungheria stungheria veramente la sblocca sul rigore di shabosh line ma ha avuto tante occasioni a rete cioè l'inghilterra non ha fatto niente in confronto ma proprio proprio zero ragazzi e manca dire che ci avesse la formazione così tanto e riserve bigford in pop e importa walker coi di coi di coi di mcgaia in difesa a tre poi centrocampo con justin rice bellingham alexander arnold attacco con mount kane e bowen cioè comunque anch'essi sono riserve sono molto più forti di dell'ungheria gulac si importa difesa 3 con shalei orban lang centrocampo naghi naghi 1 scherfer naghi 2 nego e tre quarti shabosh line e salai all'espallo di shalai un altro shalai cioè ma ma alla fine ragazzi shabosh line che ha fatto una super partita ma inghilterra se la merca un po nel culo ma comunque adesso ragazzi ci vediamo in live su twitch per un quarto d'ora per fare il pre partita di italia dell'italia staremo a vedere ci facciamo questo bellissimo pre partita e post partita un quarto d'ora e poi ci mi godrò ovviamente la partita contro contro la germania 80 paura penso che alla fine perderemo ma quello è un altro discorso comunque l'ungheria che batte una zero in inghilterra la finlandia che viene pareggiata all'ultimo secondo dalla bosnia ed erzegovina la bosnia ed erzegovina che lo pareggia con breve breve liac che entra dieci minuti prima all'ottantatresimo assist di ed in ceco e la mente dentro pucchi che diventa anche il miglior marcatore della storia della della finlandia siglando il suo trentacinquesimo gol mamma mia bellissima partita anche questa con forse un po più di dominio domini dominaccia un po meglio forse la finlandia però alla fine perché è stata più decisiva però alla fine parigiocista mentre invece sorpresa nel gruppo c perché un lussemburgo che fa molto bene per quanto riguarda cioè fa veramente molto bene asfalta la lituania 2 a 0 meritando forse non in 2 a 0 ma magari in 2 a 1 il pareggio non sarebbe stato giusto ragazzi assolutamente comunque molto bene il lussemburgo che in questa lega c secondo me può fare molto bene poi vabbè non penso andranno in nella lega b perché nella lega b cioè nel loro girone c'è c'è la turchia la turchia che non so come cazzarola sia finita in lega c il gruppo però non è così tanto incredibile c'è lussemburgo isole faroer turchia e lituania un secondo posto per me in lussemburgo ce la può fare a prendersi ecco magari fossero andati nel gruppo c2 dove ci sono cosovo grecia irlanda del nord e cipro secondo me ci avrebbero potuto fare anche se qua ci sono il cosova grecia quindi magari no il gruppo c3 kazakistan slovacchia belorussia azerbaijan c'è a slovacchia c'è il kazakistan il c4 forse gli andata pure bene perché non ci sono big non c'è una big a parte la turchia c'è isole faroer e lituania nel frattempo ci fanno vedere dalla grafica i sky quali saranno le formazioni comunque invece la finlandia che nel nel gruppo b e nella lega b 3 si porta un punto a testa dopo ci sarà anche montenegro romania mentre invece ci sarà poi vabbè a settembre si recupererà scozia ucraina non si sta ovviamente giocando per ovvie ragioni le partite contro la russia albani e russia non si è giocata penso che alla fine forse danno tutte vittorie a tavolino contro la russia la russia che nel gruppo b b2 nel gruppo b2 ma comunque sorpresona è quella è l'inghilterra l'inghilterra che viene ben fatta meritatamente dal da parte dell'ungheria che trova alla fine il gol solamente su calci di rigore tramite il ciro bosch lai che fa un super goal ma comunque ragazzi devo dire la verità mi piace tanto a me ve lo ripeto mi piace tanto questa questa nations league certo magari mettere la fine stagione un po è però è sempre bello ragazzi vedersi le partite nazionali magari si potrebbe continuare a fare così è perché prima che ci sia europee mondiale negli anni in cui non ci sono ci metti la nations league pazza sgravata e ci sta ragazzi perché l'anno prossimo che non ci sono europei nei mondiali ci saranno nel final four poi nel 2020 quando quando ci sarà l'europeo non ci saranno nel final four ma ci saranno direttamente nel 2025 oggettivamente è fatta bene ragazzi la nations league è studiata molto molto bene siamo ormai alla terza edizione l'inghilterra io la vedo una delle favorite però forse in questo momento starò sparando grosso ma penso che ci sarà almeno una sorpresa perché vi ricordo i quattro gruppi della della lega sono 16 squadre le prime si qualificano alle final four con il gruppo a1 composto da austria danimarca francia croazia a2 con repubblica cerca portogallo spagna svizzera gruppo a3 ungheria germania italia inghilterra gruppo a4 olanda polonia gallo e speggio io dico ragazzi che ma sto lanciando pronostici potremmo già capire dopo la terza giornata che si giocherà tra poco ma anche dopo la quarta secondo me nel gruppo a1 non c'è tra francia ma c'è andrà una tra austria e danimarca penso più l'austria però questo presentimento il gruppo a2 penso che ci vada forse forse una tra svizzera e spagna non penso che il portogallo ce la farà perché avendo ormai una nazionale onestamente abbastanza finita gruppo a3 dico la germania che poi per me trionferà e gruppo a4 dico l'olanda molto secco l'olanda e son convinto ne son convinto certo preferirei vedere il mio belgio che sapete che io stimi però alla fine non penso ce la faranno il gruppo a3 vedo il belgio il la germania che vince ragazzi io sono certo ma comunque l'inghilterra viene beffata può essere già un'occasione può essere un vantaggio però questa ungheria ragazzi che rischia un po di inculare tutti speriamo che non vada così almeno che inculi tutte le altre però l'italiano comunque ci vediamo adesso in live su twitch calcio trattino basso puro per fare il pre partita poi ci vedremo anche dopo col post partita ciao